Voga 2015, giorno 9. L'argomento di oggi è «La persona che ammiri di più». Potrei fare decine e decine di nomi, ci sono persone che ammiro per i risultati che hanno conseguito nella loro carriera professionale, sul loro lavoro, nella loro vita, quindi veramente decine e decine di nomi. Ma ho deciso comunque di citare la persona che secondo me si erge sopra tutte le altre persone, in quanto ammirazione, che è mia madre, soprattutto perché mi conosce da quando sono nato e ciò nonostante mi stima, quindi certamente è meritevole di ammirazione solo per questo. Comunque, scherzi a parte, perché mio padre non c'è più ormai da quasi vent'anni, non ho fratelli, non ho sorelle, quindi fondamentalmente mia madre rappresenta il nucleo principale della mia famiglia da moltissimo tempo, quindi comunque penso che sia la persona che ha la mia ammirazione, perché è la persona che mi è stata più vicina nei momenti più complessi della mia vita. Principalmente penso questo. E voi? Qual è la persona che ammirate di più sopra tutte le altre? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, e naturalmente non dimenticate di fare pollice in alto, condividere questo vlog e iscrivervi al canale. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questa era Voga 2015, giorno 9, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti! Ciao a tutti!